Un saluto a tutti e a tutti. Vorrei fare un breve bilancio del bilancio al termine di otto giorni di duro lavoro, dovuto essenzialmente alla mancanza di programmazione e di sistematicità che hanno creato un consiglio affannoso e caotico, proprio nella settimana della fiera di Sant'Orso e in concomitanza con le manifestazioni per il giorno della memoria. Apro una parentesi a questo proposito per sottolineare la gravità dell'assenza dei politici che dovrebbero invece essere in prima fila perché è allarmante che il 15,6% degli italiani nega Auschwitz, il punto di non ritorno dell'uccisione della dignità di ciascun essere umano nei campi di sterminio. Nel 2007 la percentuale di negazionisti era al 2,7%, il che significa che i movimenti dell'odio e del razzismo hanno purtroppo fatto un gran lavaggio sui cervelli vuoti di molti italiani, chiusa parentesi. Cerco tuttavia di guardare al bicchiere mezzo pieno. Di positivo c'è senz'altro il fatto che con le prossime settimane la regione autonoma Valle d'Aosta sarà fuori dall'esercizio provvisorio che se prolungato avrebbe avuto conseguenze devastanti. Poi di positivo c'è che mi hanno approvato il primo emendamento a favore della Sfom per la diffusione della cultura musicale. Dopo due anni in cui noi di Aduvi di A di emendamenti ne abbiamo presentati tanti insieme a altre centri iniziative tra cui una proposta di legge contro l'omofobia. Il problema è che le votazioni in consiglio non vengono fatte in base all'importanza e al significato di un'iniziativa, bensì grazie alla sua provenienza e alla sua spendibilità in termini elettorali. E se le proposte di buonsenso arrivano da Aduvi di A, che è molto critica rispetto a situazioni francamente intollerabili, allora vengono bocciate, salvo poi copiare l'idea e farla propria da parte della maggioranza. Emblematico è il caso delle discariche. Aduvi di A per prima il 18 ottobre ha allertato i cittadini della Bassa Valle organizzando ai sogni una serata a cui abbiamo invitato il comitato di Pompeo. Dopo mesi di sfottò, grazie all'intervento della magistratura e a 13 mila firme, tutti hanno drizzato le antenne. Quando noi abbiamo osato parlare di revoca ci sono saltati addosso dicendoci che non si possono alludere i cittadini perché i ricorsi dei gestori sono assicurati. Bene, la maggioranza con uno strano accordo improvvisato con Lega e Satelliti, a un'ora dalla fine del Consiglio, ha rispolverato la revoca delle autorizzazioni. Revoca che l'assessore aveva in realtà già disposto, chiamandola però di vieto di completamento dei lavori a shalami. Ecco un capolavoro di equilibrismo dalle larghe intese, cui quasi tutto il Consiglio ha abboccato. Ci chiediamo se in buona fede. Tuttavia il rischio di incostituzionalità c'era e rimane per via della libera circolazione delle merci, tra cui anche i rifiuti. La proposta di Aduvidia molto più saggia, realistica e volta a limitare il danno di scariche è stata invece rigettata, ma di fatto siamo stati noi ad aver innescato la miccia per tutto quel dibattito. In fondo, sapete cosa, siamo orgogliosi di essere quel tafano che sprona il cavallo a correre perché questa maggioranza è un cavallo che non sa verso dove stia galloppando, siccome ha i paraocchi. Quindi il supposto governo di scopo sarà un'impresa perdente perché non c'è alcun progetto condiviso per una valle da ossa del futuro, a cominciare dall'idea squallida che le nostre montagne siano luoghi da sfruttare a modi luna park, come ha evidenziato tutto il dibattito sulle cime bianche. L'ultimo vallone selvaggio, dove questa maggioranza, megalomane e senza pudore, spera di piazzare i piloni della terza funivia più grande al mondo, alla faccia dell'emergenza climatica, dell'attenzione all'ambiente e agli investimenti intelligenti. Grazie.